I have a wonderful electronic invention I want you to see, it looks something like you. Claudio Bisio, Pino Strabioli e Giuseppe Cederna, è dedicato a tre grandi attori questo numero di 9 e 10 spettacolo. Allora, al signorelli di Cortona arriva la vita di Claudio Bisio raccontata male, perché? Spero che sia bene, è un gioco, è un'auto recensione negativa. Raccontato male per due motivi, uno perché non è in senso cronologico, quindi non partiamo dall'infanzia fino all'età adulta, andiamo avanti e indietro, su e giù, quindi uno può essere spiazzato per questi racconti non cronologicamente corretti. E poi c'è un aspetto invece un po' più profondo, secondo me, più interessante di quel male, penso che ti riferisca a quello, la vita raccontata male, perché prendiamo anche gli aspetti non solo quelli positivi ed ulcorati, ma anche gli aspetti un po' sgradevoli, negativi di una persona, che poi non sono io, è l'autore Francesco Piccolo, testi di Francesco Piccolo, quindi io interpreto un personaggio, la gente pensa che sia io, ma è teatro. È teatro, chiaramente. Senti, è teatro Signorelli, conoscevi già Cortona? Cortona sì, il Signorelli, non ci ho mai recitato, sono felice di farlo. Oggi ho fatto una passeggiata bellissima per Cortona fino alla Santa Margherita, la chiesa, insomma, beh, Cortona è bellissima. È bella l'Umbria, è bella la Toscana, è bella l'Italia. È una zona ricca. Senti, parlaci un po' invece anche dell'ultimo film, protagonisti bambini, però è un successo ed è un film davvero molto carino. È la mia opera prima al cinema come regista, dopo 40 anni di onorata carriera come attore. Ho impiegato quattro anni per farlo, quindi ci tengo tanto, è andato molto bene, è piaciuto. Poi in questo periodo, c'è stata la settimana della memoria, la giornata della memoria, il 27 gennaio, hanno ripreso le scuole e stanno andando. E sono felice perché vadano al cinema proprio, non è che lo proiettano nelle scuole, la gente, hanno riempito il cinema anche le mattine, mi stanno scrivendo. Io ho un sito, lo dico anche a tutti, claudiobiso.it, chi volesse, c'è un indirizzo, io rispondo, leggo tutte le... l'avevo dichiarato così ai ragazzi, perché avevo fatto un video prima della proiezione del film in tutta Italia, mentre lo vedevano, e mi stanno scrivendo delle letterine, mi mandano i commenti al film, cioè molto vivace, molto presente, vivo e mi fa felice. Senti, uno dei personaggi più amati al cinema è stato Noé, che poi era un remake francese, era quello di Benvenuti al Sud, e poi c'è stato anche il Nord, ma ci sarà ventilato qualcosa? Sì, stiamo io e Alessandro Siani, che saluto, ci stiamo lavorando, e anche i produttori di Medusa, eccetera, ed ha almeno un annetto che ci siamo convinti che può essere arrivato... Sono passati 14 anni, quindi ora che poi dovesse uscire, stiamo ancora scrivendo, e quindi i tempi sono un po' più... nel cinema, ripeto, come ti raccontavo del mio film, ci ho messo 4 anni a scriverlo, a girarlo, cioè al cinema i tempi sono così. Quindi siamo ancora nella fase iniziale, ma già la volontà di farlo è tanto, quindi sì, probabilmente sarà Bentornati al Sud, gli stessi personaggi, la Finochiaro, Lodovini, io, Siani, insomma... Lodovini che è di casa, perché è di Sansepolcro. Certo, quindi vedere 15 anni dopo cosa è successo a questi personaggi. Noi sentiamo, sia io che Alessandro, ci arrivano tanti commenti, abbiamo i social anche noi, quindi c'è, che ci chiedono, ma allora quando, che fine ha fatto? Ho gente che l'ho rivisto, lo rivede quel film, soprattutto venuti al Sud decine di volte, quindi ci sembrava giusto, ripeto, dopo almeno 15 anni, provare a vedere cosa è successo a quei personaggi. Lo faremo, promesso. Un'ultima battuta sulla TV, invece in TV che cosa prepari? Il TV, beh adesso sono, ho fatto tanto in passato, ancora quest'autunno, scusa, ho finito Zellig, lo faremo ancora Zellig in autunno, altre tre o quattro puntate, addirittura ci stanno chiedendo, con Vanessa in contrada, che saluto. Anche lei di casa, perché ha registrato una fiction qui ad Arezzo, nei pressi di... E niente, quindi per me la casa mia da tanti anni è Zellig, quindi poi l'avevo interrotta per un po' di anni per fare altro, adesso l'ho ripresa, quindi così farò in autunno, e televisione per ora è questo. Poi teatro, quest'anno giro quattro mesi, sarò in giro fino a metà maggio, quindi vi vedrete in giro per l'Italia nei teatri. Sud faccio che l'anno scorso non sono riuscito a fare, vado in Sicilia, in Puglia, ma adesso sono a Cortona. E noi siamo molto felici. Vi aspetto, ciao. Uno spettacolo che nasce da un libro che a sua volta nasce da 30 pranzi, quindi ricordi a tavola. Sì, è uno spettacolo che nasce appunto da questo libro. Paolo, rifrattario da sempre alle autobiografie in assoluto, alle biografie anche, e io riuscì a convincerlo a dirgli che Paolo verrò con un registratore, ci incontriamo, mi racconti un po' della tua vita, e lui, insomma, fui molto insistente, va bene, però lo facciamo a pranzo, così mi distraggo mangiando, bevendo un po' di vino, e per una trentina di volte ci siamo visti nello stesso ristorante alla stessa ora, io portavo questo piccolo registratore e mi facevo raccontare momenti della sua vita, che appunto poi ho raccolto in questo libro, e dopo qualche anno ho deciso di portarlo in scena. Perché questa passione per lui? Beh, questa passione per lui, la risposta è lui, perché è unico, è stato unico, continua ad essere unico, un punto di riferimento non solo per il teatro, ma per la cultura del nostro paese, è stato un atto politico, è stato un rivoluzionario, è stato uno degli uomini più colti che io abbia mai incontrato, mai giudicante, un genio, è nato nel 1929, dichiarato... Il novecento? Il novecento, assolutamente, lui, Franca Valeri, Dario Fo, Carmelo Bene, insomma il novecento. Ultima domanda poi la lasciamo allo spettacolo, Castiglion Fiorentino, che impressione le fa? Castiglion Fiorentino è la prima volta, per me, beh, questo teatro è bellissimo. Primo spettacolo per la nuova stagione teatrale di San Giovanni Valdarno, Giuseppe Ciderna, ha messo in scena al Masaccio, Storia di un corpo, di Daniel Pennac, con la regia di Giorgio Gaglione. Un viaggio di vita, un percorso dentro un'esistenza. Cederna, con ironia disincantata, narra la vita di un uomo dall'età di 12 anni fino ai suoi ultimi giorni. E' lo spettacolo della vita, perché ho la fortuna di raccontare la storia del mio corpo al pubblico e di far rivivere al pubblico la storia del suo corpo. Ed è un corpo di un uomo, come vedete, io sono un uomo, ma a ridere, a sorridere, di questo corpo sono, non dico soprattutto, ma sono le donne di tutte le età, perché è un spettacolo che appunto copre un'intera vita, per cui all'inizio ci si diverte con le prime paure dell'infanzia, i primi fallimenti, le scoperte, le paure, il primo lutto, e poi invece la paternità, l'amore, il sesso. E' uno spettacolo molto coraggioso, perché parlare del corpo, come fa Pennac, con leggerezza, ironia e profondità, è abbastanza unico. Cederna è conosciuto dal grande pubblico, anche per uno straordinario film, Mediterraneo, di Gabriele Salvatores, vincitore del premio Oscar nel 1992. L'anno scorso, ad agosto, sono stato a presentare, a presentare, a rivedere, con gli amici greci di Castellorizo, l'isola del film, in piazza, il film Mediterraneo, che io non posso vedere, perché mi prendo una malinconia, e un magone tremendo, perché è il tempo che passa. Mi sono rivisto in questo film, e mi sembra di avere 18 anni, non quasi 30 come ne avevo.